Il PD è abituato ad avere cagnoline al guinzaglio, noi invece andiamo dove ci sono progetti che ci piacciono. Siamo una forza civica che mira ad avere più del 10% in regione e il PD dovrà fare i conti con noi per governare. Il coordinatore regionale di Abruzzo Civico, ospita di prima mattina, non le manda certo a dire i vertici del Partito Democratico alla luce della terza riunione saltata in provincia promossa dal presidente Renzo Di Sabatino per tentare di arrivare a dei chiarimenti sulle alleanze tra i due partiti. Ma se per Abruzzo Civico ci sono ancora crediti da incassare, vedesi quanto è accaduto in regione, a Roseto, con i comportamenti soprattutto del sindaco di Girolamo, definiti da pomante alquanto discutibili, sul caso Nugnes è categorico. Siamo una forza civica soprattutto che nel caso della provincia aveva diritto alla vicepresidenza perché avendo contribuito sia all'elezione del presidente Di Sabatino due anni fa in maniera determinante sia alla riconferma del Consiglio in favore del presidente Di Sabatino in maniera determinante con una crescita dal 5 al 7,6% dei voti apportati da Abruzzo Civico e prassi istituzionale che il partito che ha la presidenza dia la vicepresidenza all'alleato più forte che maggiormente ha contribuito al successo elettorale. Quindi è la protesta del PD che non sta in piedi in realtà da un punto di vista della prassi istituzionale e viene motivata con un presunto contrasto che loro stessi hanno generato però a Roseto e in regione. E sulla questione delle alleanze e le prossime amministrative a Martinsicuro e Tortoreto, Pomante chiarisce che anche lì la responsabilità è tutta del Partito Democratico. Ma anche lì la responsabilità è tutta del PD, non può essere certo scritta a noi. se avessimo fatto questa riunione un mese fa quando è stata convocata per la prima volta da Renzo Di Sabatino, dal presidente Di Sabatino che devo dire è stato di una disponibilità disarmante in questi casi pur essendo il principale accusato di questa situazione probabilmente avremmo potuto parlare anche di Tortoreto e di Martinsicuro. Adesso pretendere da parte del PD che noi si sposi una coalizione che a parte ancora non esiste e pretenderebbero adesso che noi buttassimo tutto per aria per far spazio al PD. Hanno sbagliato casa, numero e porta. Commenti infine non proprio in punta di Fioretto sul segretario provinciale PD Gabriele Minos e sul consigliere Maurizio Verna sulla richiesta di revoca della vicepresidenza in provincia a Mario Nugnes. Stiamo ragionando in termini di alleanze di respiro regionale quindi figuriamoci quanto possa contare il parere del segretario provinciale un parere del segretario provinciale che tra l'altro è ormai dimissionario quindi è a scadenza di mandato e che è stato più volte scavalcato dal suo stesso partito sia da chi sta sopra di lui sia da chi sta sotto di lui per esempio per l'accordo di Roseto. Per l'accordo di Roseto Minos non è stato minimamente convocato segno che quindi anche il partito non è che lo tenga in particolare considerazione insomma come segretario provinciale. Forse dovrebbe lui riflettere sui suoi rapporti con il partito lui e Verna dovrebbero riflettere sui loro rapporti col PD e poi parlare con noi.